Le mani, le stelle, i nostri ragazzi, i compagni, amici e anche i nemici, i nemici da 43 anni come ha detto il compagno Alvino, io li stimerò ugualmente, però bisogna fare i conti anche con noi, educatamente li stimiamo e loro ci devono stimare. Da 43 anni che noi abbiamo subito quasi dei martiri tipo naziste, o forse peggio, perché chi aveva le idee di difendere i stessi compagni operai venivamo maltrattati, accantonati, non si andava a lavorare, perciò dimentichiamo pure quelle cose. Ma noi non ci attenderemo mai, facciamo il nostro dovere, gli italiani e viva la Repubblica e a tutti gli italiani. Grazie!